Continua la ricca offerta di spettacoli dell'Arena BCC di Fano, continua il ricco palinsesto estivo organizzato a Tre Ponti dal Teatro Verdi di Montecatini, che anche in questa settimana propone tre spettacoli di genere disparati. Si parte l'8 agosto con le risate legate al mondo della scuola e della categoria docenti con Telchi Filippo. Filippo Caccamo è un autore, un comico, un attore lodigiano che appunto è avanti a un seguito di oltre 500.000 follower su Instagram, TikTok, Facebook e in questo spettacolo racconta gli aneddoti, i tic, gli episodi più buffi, iconici della vita scolastica del corpo docente e non solo ovviamente perché si parte dal mondo della scuola per poi spaziare ad altri ambiti della vita. Si continua il 10 di agosto con un'opera immortale come Giulietta Romeo da 20 anni proposta in un imperdibile spettacolo danzante. Dal 2002 ha l'attivo oltre 350 recite in tutti i teatri d'Italia e non solo e oltre 200.000 spettatori e dal 2022 il ruolo di Giulietta è rivestito da Carola Puddu, una giovanissima ballerina, artista che è entrata a far parte del Balletto di Roma nel 2021 dopo aver partecipato ad Amici e con Paolo Barbonaglia tra l'altro nel ruolo di Romeo ovviamente. Qui è un adattamento particolare di Giulietta Romeo che è la classica, ovviamente il dramma di Shakespeare però trasposto appunto a passi di danza e è uno spettacolo veramente travolgente e toccante. Il 13 agosto sarà invece la volta dell'omaggio a Raffaella Carrà. Nel ruolo di Raffaella Carrà c'è Beatrice Baldaccini che è una giovanissima promessa del musical italiano e già affermata perché comunque ha interpretato anche il ruolo della protagonista nel musical Pretty Woman che è stato in tour in questi ultimi anni. Ci sono sul palco cinque musicisti, quindi c'è la musica dal vivo ovviamente e ci sono anche sei performer e ballerini per cui voglio dire uno spettacolo a tutto tondo. Un concerto recital perché ci sono comunque anche delle parti recitate e appunto ci sono delle coreografie straordinarie di Angelo Di Figlia e la direzione artistica di Claudia Campolongo e la regia di Gabriele Colferà. Insomma uno spettacolo veramente che vi invitiamo a vedere perché il mito di Raffaella Carrà va sicuramente celebrato e ricordato.